Quindi oggi proveremo alcuni cibi tipici norvegesi Ma siamo qui in Italia nella bellissima cornice di piazza Gaio Lint Avete mai provato del cibo norvegese prima? Sì Sì, dove andiamo? Sì, è vero, questo Adesso io, la cat C'è due anni fa Evviva, queste sono chips norvegesi Sono molto curiosi Sì No, prego, a lei l'onore Non hanno niente di particolare secondo me Siamo anche quelli dell'Ikea Sì, sono anche quelli dell'Ikea Le corattine normali salate È buono Un gusto molto semplice Normale? Normale Sette No, dai, cinque Altra, sei Non è niente di che Secondo me Ma a me piacciono le patatine così Quindi darei un otto e mezzo Particolari Buone Questo è buone Meglio di prima Io adoro Non ci siamo mai spinti così Sembrano molto buone Sembrano molto buone Non mi fa impazzire Forse perché ho mangiato un salato prima Particolare l'incrocio di sapore Dovrebbero fare anche qui in Italia Un sette Nove e mezzo Nove, nove glielo do Nove Addirittura Sì, sì Li comprerei anche qua È vero No, anche te anche? No Troica Troica Non c'è il nome Porca Troica Porca Troica Ma cos'è? No, no No, cos'è sta roba? Non c'è il covid La roba dentro cos'è? No, a me non piacciono le gelatine In genere No La gelatina non ci sta per niente No, io odio la marmellata Odio quella delle ciliegie Tra Mi sembrano No, non ci siamo Sembrano le robe No Fino al marzapane era ok La gelatina No È un po' Cioè se fosse stato di un gusto un po' più forte Ci sarebbe stata bene Tipo proprio aspra No Però la gelatina è strana Mmm, tre Si offendono in ormai genito Ah, scusa Quattro Vabbè Però non Non mi piace Non mi offendete Questo è un tipo KitKat No No, non mi piace Meglio KitKat No Buono Sembrava proprio come il nostro KitKat Italiano KitKat interlaterale Otto Nove Troppo dolce Troppo cioccolato Il cioccolato Più buono questo Secondo me No, io dico Cinque Buono Cioccolate Vabbè Il cioccolato Sembra buono Che modo tessi Da un alici Otto Dai Nove Ma Perché Ma non piacciono i dolci Se no ti avrei dato Non ti piacciono i dolci Però dai nove Cioè non lo so Direi sette Però va bene No, questo è tipo il Milka Con le bubble Sembra Milka Buono Ti piace? No Cioè è meglio l'altro Particolare Freya Più buona Freya Più buona Freya Freya più buona Mmm Direi Nove Perché non mi piacciono i dolci Io invece dirò Otto Sì perché è buono Ma non è niente di chi E questo è un nove Per me è un otto Non riesco più a parlare Tutto il cioccolato Che ho mangiato Io sto già Sprofondando Nelle tenebre qua Tutto il cioccolato Che ho preso Sta facendo peso Ciao Ciao Pux Ci vediamo L'inferno Scusate Non c'è È una fregatura Ciao 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 È buono Si sente No meglio questo Di quello di prima Mi piace Non lo mangerei tutti i giorni Non guardare così Quindi ho nove Tre buono Quindi Otto Otto Beh No io ho sette Massimo Si offendono Si conoscevo a sentire a vivo No dai Non posso mangiare Una roba di genere Sai proprio di Di cosa di cani Di gatto Sai La bambina quella Sai cosa Assomiglia Ma te di che cosa Di fegato Ah già Il fegato A me io questo L'ho già assaggiato Per forza Non mi sto male Sicuro Non l'ho mai mangiato Il fegato È buono Sembra tipo mortadella No non piace A me Cinque Ma a me non piace Il fegato Non si Ma è vero Sei matta Sei matta Buono Non mi devi assaggiare Non ci devi pensare Che è fegato No no Non ci penso Devo dire Ho mangiato cose più buone Però Se vai oltre l'odore E oltre l'aspetto Potrebbe anche piacere Sensoriale Zero A livello di L'ostrativo Ma dai Un sei se lo merita Di gusto Io Allora non lo comprerei Sei Cinque e meno Cinque e mezzo Non lo comprerei però Eh no è sette Queste Dolcino E forse queste Hai hai È singola Per questo Oddio Che noia Ciao Volete altri video Come questi Fatecelo sapere Nei commenti giù Did you enjoy this video Please don't forget to like Subscribe And comment down below Yeeey I'll see you guys g